Può piacere come può non piacere. Può essere stato scorretto sportivamente, ma i numeri non li toglie nessuno. Ora siamo al 21 settembre 2019 e si guarda avanti, vivendo questo presente. Quel che è stato, è stato. Nonostante tutto quello che è successo, non si può dire che Marquez non sia il più forte in questo momento. Aspettate, aspettate, fermi per rimanere i commentari. Eh, tifi Marquez, sei contro Rossi. No, io ho solamente detto che Mark è il più forte di tutti in questo momento ed è una mia opinione. Possiamo non essere d'accordo con la sua persona, con i suoi modi di fare, ma in questo momento è lui l'uomo da battere. Che cosa gli volete dire a uno che riesce a gestire uno dei momenti più difficili, il momento dell'attacco per la pole? Uno dei momenti più frenetici, più agitati, il cuore a mille. Voglio essere in pole, il pensiero di tutti i piloti, la voglia di dimostrare la nostra forza. Lui riesce a rimanere calmo in quella situazione, in più ha molto margine ancora di miglioramento. Anche se anche in questa occasione si è attaccato per un giro a Maverick Vignales ed è riuscito poi a migliorare il suo tempo di 41 millesimi. Però io penso che il migliore di questa qualifica sia stato Fabio Cortarò. Quel ragazzo francese di Nizza che ha un talento veramente assurdo, 20 anni, rookie, quindi primo anno in MotoGP. Velocità di punta sul rettilineo di Argon, 327 km orari contro i 340 di Marquez. 13 km orari di differenza che sono un abisso, sono veramente tantissimi. Ma lui nonostante tutto non si è reso ed è riuscito a portare un secondo posto, solamente 327 millesimi da Marquez. Possono sembrare tanti ma fidatevi che tenendo in considerazione che è un rookie, la sua moto va più piano. Marquez è un campione, la moto è adatta a lui, l'ha sviluppata a lui e quindi è perfetto in sentina con lui. Veramente ha fatto qualcosa di incredibile. Cortarò come ha fatto qualcosa di incredibile anche l'Aprilia, portando Aleccia e Spargarò in quinta posizione e Andrea Iannoni in undicesima posizione, ben oltre la metà di classifica. Disastro invece per le KTM, purtroppo Zarco è stato licenziato, al suo posto il collaudatore Caglio e Poles Spargarò che ha fatto qualcosa di davvero incredibile a Misano ma purtroppo è caduto qua e non ha partecipato alle qualifiche quindi la KTM scenderà in pista con solamente il finlandese. Situazione Ducati invece è un vero disastro. Danilo Petrucci non è neanche andato in Q2 mentre è dovizioso undicesimo. una delle sue peggiori qualifiche ad Aragon, contando invece che l'anno scorso Paul Di Lorenzo in Ducati è dovizioso a 14 millesimi, mi sembra in seconda posizione. E' cambiato tutto. Questo fa capire come la MotoGP sia davvero imprevedibile. Ottima invece è la Yamaha. La Yamaha come ho già detto è Quartaroro II, Vignale, Sterzo e Valentino Rossi con i suoi 40 anni ancora lì in sesta posizione ma ragazzi, quello che mi fa riflettere è come la Honda vada molto più veloce soprattutto della Yamaha perché 13 km orari differenza sono davvero tantissimi. Si fa la differenza con quelli, soprattutto in una pista come Aragon dove l'ultimo rettilino è molto lungo. Infatti Quartaroro è arrivato al terzo settore che aveva 8 millesimi di vantaggio su Mar che si ha perso 3 decimi nell'ultimo rettilino. Però sono sicuro che con l'aiuto su la Yamaha potrà migliorare molto. Nell'intervista poi ha dichiarato di non avere il passo di Marquez, può averlo per 2 massimo 3 giri però come sappiamo la gara è tutta un'altra cosa rispetto alla qualifica quindi vedremo cosa accadrà domani. Spero con tutto il cuore di essere riuscito a trasmettere a voi la mia passione per l'emoto a coinvolgervi perché alla fine per me è questo che conta. Ok vi ho detto tutto quello che mi premeva dirvi se vi va iscrivetevi, un bel like e ci si becca. Grazie a tutti.